Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura alla cronaca è stato trovato a Bonzicco di Dignano il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione. La salva era riversa in un terreno agricolo vicino al greto del fiume Tagliamento. Ci aggiorna in diretta da Dignano, Daniele Paroni. A te la linea Daniele. Buongiorno Alessandra e buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici. Vedete, questo è il bosco dove qualche ora fa è stato trovato il corpo oramai mummificato di un uomo dell'apparente età di 50 anni senza vita e sul cui ritrovamento sono in corso le indagini dei carabinieri di San Daniele guidati dal comandante Scudeller. Sulle cause sono ancora in corso le attività. Non sarà possibile a quanto pare effettuare l'autopsia per le condizioni del povero corpo ritrovato da due marocchini che probabilmente erano qui a passeggio in questa strada sterrata in località basso di Bonzicco di Dignano. La cosa inquietante è che questa persona, questo corpo che probabilmente, ma ribadiamo, le operazioni di identificazione sono in corso e potrebbe essere residente nella zona del Monfalconese era qui oramai da tre mesi. Le temperature alte e evidentemente la zona imperia non hanno favorito la sua individuazione. Sentite sullo sfondo, nell'immagine del nostro Paolo Bassi, il suono del canto del Cicale e come nel prossimo collegamento avremo una persona che conosce bene quest'area. È un'area dove molte persone vengono a camminare qui a veramente una cinquantina dal tagliamento rigorosamente in secca visto il periodo siccitoso. I carabinieri stanno appurando perché quel corpo si trovava ancora in queste zone, è una zona piuttosto isolata, una zona che quando è aperta la caccia è frequentata anche da cacciatori. Ribadiamo, si tratterebbe di un cinquantenne della zona dell'Isontino. Vedete, questa è l'area, sarebbe stato trovato il portafoglio e anche il telefonino di questo uomo. Indagini in corso da parte dell'arma, restituisco la linea. Grazie Daniele, ci ritroviamo dopo. E ancora fiamme sul Carso, un vasto incendio ha interessato la zona sopra San Dorligo della Valle dove sono andati in fumo 10 ettari di bosco oltre confine. Questa volta i pompieri italiani hanno supportato quelli sloveni che in poche ore durante la notte hanno messo in sicurezza la zona. L'origine vista la zona impervia è quasi certamente dolosa. L'incendio è attualmente sotto controllo ma è stata un'altra notte di passione per le fiamme che questa volta hanno bruciato 10 ettari di boscaglia sul Carso sloveno non troppo lontano dal comune di San Dorligo della Valle. Ci hanno attivato intorno alle 3 di notte, siamo arrivati qua ed l'incendio era già abbastanza grande. Siamo stati circa 80 pompieri. Più ci ha aiutato l'elicottero italiano, poi è arrivato anche l'elicottero sloveno e adesso posso dire che è sotto controllo. Le fiamme sono divampate in un canalone isolato e paradossalmente riparato dal forte vento di Bora che soffia sulla Venezia Giulia che avrebbe potuto rendere molto complesso lo spegnimento dell'incendio. ARPA sta monitorando la qualità dell'aria ma al momento la situazione è sotto controllo. Ancora cronaca, la Procura conta di avere a breve novità nell'ambito dell'inchiesta condotta con la Guardia di Finanza che ha portato al maxi sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina a Trieste e all'emissione di misure cautelari per 38 persone in Europa e in Colombia. Confidiamo che ci vengano presto consegnati alcuni soggetti che nella prima fase si erano resi latitanti, spiega il Procuratore Capo di Trieste Antonio De Nicolo. Tra loro vi sono anche alcuni personaggi di spicco. Stiamo lavorando per intracciarli all'estero e speriamo di farci riconsegnare in Italia. Nel frattempo abbiamo raccolto importanti confessioni da alcuni dei soggetti già raggiunti dalle misure cautelari, specifica il Procuratore. Le indagini proseguono per arrivare a individuare il maggior numero possibile di persone coinvolte nel giro di narcotraffico che dalla Colombia faceva arrivare fiumi di droga in Italia attraverso il porto di Trieste individuato dagli appartenenti all'organizzazione criminale come un porto sicuro. Cambiamo pagina. Confagricoltura FWG ha previsto per la vendemmia un calo della quantità di uva raccolta nell'ordine del 10-15% a causa della siccità. Qualità più alta nei rossi che nei bianchi. Situazione complicata dove oltre a non aver piovuto ha pure grandinato. Cala la quantità ma la qualità resta alta. E' questa la previsione compiuta da Confagricoltura FWG sulla vendemmia 2022 per il Friuli Venezia Giulia gravata dalla pesante siccità che ha colpito la nostra regione. Il calo generalizzato si attesta sul 10-15% del raccolto più accentuato dove ci sono state grandinate e ulteriore pericolo può essere creato da eventuali malattie come mal dell'esca e flavescenza dorata, favorite proprio dal gran caldo. Ci saranno molte vite da espiantare, dice Michele Pace Perusini coordinatore della sezione economica Viti Vinicola di Confagricoltura FWG e si dovrà considerare il ristoro dei costi di reimpianto. La situazione in regione è diversa in base ai terreni. Sulle varietà precoci si registrano i primi arresti di maturazione da calore. Con meno acqua, continua Perusini, calerà ulteriormente anche la resa e probabilmente anche la qualità. Sul mercato Viti Vinicolo peserà sicuramente anche la crisi economica. E' ragionevole pensare, prosegue Pace Perusini, a un rallentamento del mercato del vino, con minori scambi in volume e valore più contenuto. La reazione deve passare dai mercati di esportazione, sia europei che in America, ma anche nel sud-est asiatico, dove, con cui delle esponenti di Confagricoltura, il nostro paese è molto competitivo. Voltiamo ancora a pagina. Utile e netto a 9,5 milioni di euro. Masse amministrate per 2,8 miliardi di euro, più 5,8% rispetto a giugno 2021, più 7% raccolta diretta con l'apertura di quasi 1.500 nuovi conti correnti in soli sei mesi. Risparmio gestito stabile, impieghi per 1,05 miliardi di euro, più 7,8%, con un importante sostegno a settori di mercato come quello turistico. Sono i dati principali della semestrale 2022 di Credit Friuli, Banca Credito Cooperativo del Friuli, che sottolinea i buoni risultati nonostante il difficile andamento del mercato, segnato dall'impennata dell'inflazione, il ricano delle materie prime e, in generale, l'instabilità del contesto macroeconomico. Crescono anche le erogazioni di mutui casa, più 5%, mentre un notevole impegno è stato profuso nella riqualificazione del patrimonio edilizio, che ha superato i 45 milioni di euro di crediti fiscali acquistati, con la gestione di oltre 300 pratiche. Passiamo agli spettacoli. Torna a Colloredo di Monte Albano la rassegna Tango da Pensare. Sono tre gli appuntamenti in calendario, giovedì 11 agosto, sabato 13 e giovedì 18. Vediamo. Tutto pronto per la nuova edizione di Tango da Pensare? Si rianimano le serate nel castello di Coloredo di Monte Albano? Sì, si può dire che siamo pronti. Sono gli ultimi preparativi, come tutte le cose, ma siamo molto orgogliosi e soddisfatti, perché la comunità colinare ci ha sponsorizzato anche quest'anno per continuare una tradizione che noi ci crediamo molto, che è il Tango da Pensare tramite punto musicale, che è l'associazione e soprattutto la direttrice Carla Agostinello. Gli appuntamenti inizieranno questo giovedì 11, dopo ci sarà il 13, che è un sabato, e per concludere la serata più importante, anche con artisti di livello e di grossa cultura, argentini e anche da parte di tutto il mondo, il 18, che è un giovedì. Gli appuntamenti sono tutti alle 21, giovedì 11, Immagines de Tango, con il Modern Saxophone Quartet, sabato 13, incontro dal titolo Tango, la tradizione e la sua voce. Terzo appuntamento giovedì 18, con il Quartetto Contemporaneo. È una grande occasione per far conoscere il piccolo ma grande territorio Coloredo di Montalberno, insieme alla comunità colinare, che è ormai un ente, una grande realtà con 15 comuni, soprattutto per portare cultura, storia e turismo, che sono le basi che dobbiamo partire a più presto per rilanciare il nostro territorio. E quanto conta allora la sinergia tra i comuni della colinare? È fondamentale, dobbiamo continuare in questa strada qua, perché più siamo uniti, più magari si discute, ma dobbiamo sempre essere uniti assieme, e portare avanti una grande linea, che è il nostro territorio, insieme. Passiamo adesso allo sport, parliamo di Udinese. Ieri sera è scoppiato e subito rientrato il caso Udoge. Alcune foto social a Londra avevano allarmato i tifosi, ma l'esterno bianco-nero era regolarmente a Udine per l'allenamento. La firma per il Tottenham deve ancora arrivare, e in ogni caso è confermata la sua permanenza in bianco-nero per un anno. È rientrato presto, il nuovo allarme Udoge è scattato nella tarda serata di ieri, quando il terzino bianco-nero ha postato su Instagram un paio di foto assieme al compagno di squadra Zopì, con indicata Londra come località in cui le immagini sono state fatte. Il giocatore, ieri alle 18, era al Bruseschi, regolarmente agli ordini di Sottil, mentre veniva diffusa la notizia che avrebbe presto effettuato le visite mediche in Italia prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà per cinque stagioni al Tottenham. E quindi? I beninformati assicurano che Udoge a Londra con Zopì ci è andato davvero, ma nei giorni del fine settimana concessi dalla società dopo la gara di Coppa Italia, sabato e domenica. Ma per questioni personali extra-calcistiche. Ed è altresì vero che con il Tottenham è tutto fatto, mancano solo visite mediche e firma, che verranno sostenute entro questo fine settimana in modo da dare l'ufficialità del trasferimento prima della gara con il Milan. Poi, però, Udoge dovrà concentrarsi ancora per una stagione solo sulle sorti dell'Udinese. È infatti confermato anche il suo prestito per questo campionato ai bianconeri. Adesso una curiosità. Davide Bonolis, figlio del presentatore Paolo Bonolis. La prossima stagione giocherà con la primavera della Triestina. L'avvistamento di Paolo Bonolis la scorsa settimana a Trieste alla fine non era casuale. Il popolare presentatore televisivo era in città perché il figlio, Davide, stava effettuando un periodo di prova con la Triestina Calcio e oggi è arrivata la conferma che il neomaggiorenne ha firmato un contratto con la primavera. Nato a Roma il 30 giugno 2003, Davide ha avuto delle esperienze nelle giovanili della Roma e della Sampdoria e ora, da svincolato, ha sposato il progetto del neopresidente Simone Giacomini. La famiglia Bonolis in realtà ha qualche legame con Giacomini. Bonolis, padre, ha avuto modo di lavorare con lui, ma, soprattutto, con il responsabile della comunicazione della società Rosso alla bardata Gabriele Parpiglia, amico di famiglia. Paolo Bonolis, inoltre, oltre ad essere un grande tifoso dell'Inter, è soprattutto appassionato di calcio, mentre figlio Davide non ha mai nascosto di voler intraprendere la carriera televisiva, ma solamente dopo aver provato a sfondare nel calcio. E prima di Trieste era stato in prova a Trento, alla fine però ha scelto la città di Mare. Dopo il figlio di Matteo Renzi nello giovanile dell'Udinese, quindi un altro VIP sceglie il Friuli Venezia Giulia per l'avventura sportiva del figlio. Il Tg termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con gli approfondimenti di A voi la linea, tra poco. A voi la linea, tra poco.